anna è tornata a casa sua un paio di giorni e questo è un dramma ogni volta perché io rimango da solo e non sono molto bravo a mantenere la casa in particolare non sono molto bravo a mantenere me stesso infatti mi sono già dimenticato di ordinarmi la cena che voi direte va bene non è un problema grave beh no però anche perché non posso ritirarmela la cena perché io sono in live quindi questa cosa vedete è un bel problema è un bel problema e vabbè la ordino adesso che cena devo ordinare ragazzi ditemi voi